Gravi atti intimidatori nei confronti dei sindaci di Ruvo di Puglia, Pasquale Chieco e di Terlizzi, Nini Gemmato. I gnoti si sono introdotti nella casa in campagna del primo cittadino ruvese e hanno appiccato un incendio. Gemmato invece ha trovato un proiettile all'ingresso del suo ufficio. In seguito a questi eventi abbiamo realizzato un'intervista doppia. Sentite. Pasquale Chieco, primo cittadino di Ruvo di Puglia, oltre che sindaco anche professore universitario e avvocato. Nini Gemmato, sindaco di Terlizzi, oltre che primo cittadino anche farmacista. Perché ha deciso di fare il sindaco? Ho deciso di fare il sindaco perché ho avuto la possibilità, perché poi la decisione l'hanno presa i cittadini, e ho avuto la possibilità di impegnarmi in un mandato e in un'attività di rilevanza civile. Lo intendo come un impegno civile. E tenuto conto appunto della mia storia anche professionale, a un certo punto della mia vita, avendo avuto questa occasione, questa opportunità, ho deciso di coglierla. Sono un uomo che ha avuto dalla vita, ho avuto tante opportunità e sono un uomo realizzato. E ho deciso a un certo punto di ridare alla società e in particolare alla mia comunità quello che di buono ho avuto dalla vita. Io provengo da decenni di impegno politico istituzionale, sono stato consigliere comunale per tanti anni, ho ricoperto anche la carica di Presidente del Consiglio Comunale. Per me ha rappresentato la candidatura a sindaco a suo tempo, ha rappresentato la continuità di un impegno sostanzialmente. Che cosa le è accaduto qualche giorno fa? E' accaduto che appunto mi hanno telefonato informandomi che la mia casetta di campagna era stata incendiata dall'interno. Dopo aver avuto questa informazione sono corso a rendermi conto di quello che era successo. Cioè davvero lo spettacolo è stato molto toccante perché appunto ho trovato tutto quanto distrutto, tutto quanto annerito. Una casetta di campagna che stavamo rimettendo a nuovo, che avevamo rimesso a nuovo e che stavamo riarredando perché appunto pensavo di trasferirmi lì, di renderla la mia residenza più stabile e invece appunto hanno interrotto anche questo progetto di vita. Due episodi, uno consecutivo all'altro, uno connesso con l'altro. Il ritrovamento nel mio ufficio della fotocopia di un proiettile e la mattinata successiva il ritrovamento di un proiettile attaccato alla vetrata superiore della porta del mio ufficio. C'è stata solidarietà da parte dei cittadini e dell'intera classe politica? Assolutamente sì, da parte dell'intera comunità e dell'intera classe politica, senza istinzione di colori politici, di bandiere, di schieramenti, assolutamente. Una solidarietà corale. Tantissima solidarietà. Devo dire che in un momento difficile come appunto quello che anche dal punto di vista psicologico si affronta nel momento in cui si è vittime di eventi di tale aggressività, di tale violenza, come quello appunto di vedersi incendiata la propria casa. La solidarietà, la vicinanza, non parlo soltanto delle istituzioni, dei tanti colleghi e amici, ma parlo proprio dei cittadini, di tante persone innumerevoli che mi hanno scritto in privato, in pubblico, con post. Questi atti cambieranno il suo modo di vivere e di lavorare per i cittadini? Allora, sul piano delle abitudini spicciole, delle abitudini quotidiane, ecco, della gestione del quotidiano, ovviamente l'invito fattomi da familiari, amici, l'invito che ho fatto io stesso, a me stesso, è stato quello magari di rivedere qualche piccola abitudine di vita all'insegna della prudenza, della cautela. Però, al di là di questo, la mia attività continua invariata sul piano proprio della passione, entusiasmo, addirittura, oserei dire, rafforzata, perché questo episodio alla fine mi ha fatto capire che sono con la coscienza a posto, che ho lavorato per tanti anni, davvero con massimo equilibrio, con massimo equità nei confronti di tutti. E quindi il fatto di aver subito un'intimidazione di questo livello non mi spaventa assolutamente, anzi, rafforza i miei convincimenti, la mia passione, il mio entusiasmo. Bisogna che i cittadini abbiano nei confronti delle istituzioni l'attenzione e anche il rispetto, proprio perché sono persone che si impegnano per la collettività. Questo che mi è successo può essere l'occasione, perché da parte di tutti quanti si rifletta. Anche la politica, anche nello scambio politico, ieri sera in Consiglio Comunale è emersa in maniera unanime la volontà di abbassare i toni, a volte la politica li alza, a volte anche senza la consapevolezza che questo possa suscitare modalità di interazione inadeguate.